Ciro Di Marzio è stato ucciso oppure no? La confessione shock del set di Gomorra. Gomorra 4, ecco le prime anticipazioni, Ciro Di Marzio non è morto e tornerà nella quarta serie? Qual è la verità su Ciro Di Marzio, il protagonista della serie TV Gomorra di cui abbiamo assistito alla sua morte nel corso dell'ultima puntata della terza stagione? I tantissimi fan, che hanno avuto modo di seguire con grande interesse gli episodi di questa terza stagione si stanno chiedendo se ci sarà il ritorno di Ciro nel corso della quarta serie oppure se il suo è un avvio definitivo. Ecco nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere su Gomorra 4 e anche i primi spoiler ufficiali sul personaggio di Ciro. Ecco la verità su Ciro Di Marzio, gli spoiler su Gomorra 4 la serie e le anticipazioni di queste ore sul futuro di Gomorra 4 la serie rivelano che la ficzione è stata già confermata per la prossima stagione televisiva. Gli sceneggiatori in queste settimane si sono messi già al lavoro per la scrittura della quarta stagione, che molto probabilmente andrà in onda soltanto a partire da gennaio 2019 sui canali ski. La trama della quarta serie di Gomorra, al momento, è ancora top secret ma possiamo annunciarvi che ci saranno un bel po' di colpi di scena, che avranno a che fare anche con il ritorno in scena di alcuni dei personaggi storici di questa ficzione, che nel corso delle tre serie abbiamo visto uscire di scena. Uno di questi personaggi, che dovrebbe ritornare in Gomorra 4 è proprio Ciro Di Marzio, le anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che il famoso boss della serie TV Schi potrebbe non essere morto Cos, come tutti hanno ipotizzato dopo aver assistito alla sua morte nell'ultima puntata della terza serie. Il ritorno in scena di Ciro l'Immortale, la confessione shock sulla quarta serie si vociterà, infatti, che Ciro Di Marzio possa aver utilizzato un giubbotto antiproiettile che in un certo modo gli ha salvato la vita e di conseguenza gli ha impedito di passare a miglior vita dopo il colpo di pistola ravvicinato, che venne fatto esplodere da parte di Jenny Savastano. Ecos, Ciro l'Immortale, Elias Marco d'Amore, quasi sicuramente ritornerà sul set della quarta serie di Gomorra per prendere parte ad alcune delle nuove puntate e per garantire dei nuovi colpi di scena clamorosi. E i film di Gomorra 4 sono già in trepidante attesa, curiosi di sapere in primis, quale sarà adesso la vendetta di Ciro nei confronti di Jenny. Ciro tornerà per vendicarsi e ammazzare, stavolta per davvero, il suo amico fraterno Jenny Savastano, lo scopriremo nel corso della prossima stagione, cliccate sul tasto segui per tutti gli aggiornamenti. Ciro tornerà per venditarsi e ammazzare, stavolta per venditarsi e ammazzare. Grazie. 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 Grazie.